Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Chiesa agremita al porto di Fanno per l'ultimo saluto a Corrado Cardelli, il fondatore di Bene Comune All'eremo di Montegiove la comunità dei Camaldolesi ha celebrato il funerale di padre Colombano Morto a 103 anni nel giorno della Beata Vergine del Rosario Non c'è pace per il bar polvere di caffè a Sant'Orso, i ladri hanno distrutto tutto Il titolare affranto non so se questa volta riusciremo a rialzarci Si sale di un punto nelle classifiche di Fanno e Vis che nelle partite di ieri hanno pareggiato in casa Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fanno TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale sul canale 17 C'è Occhio alla Notizia Partiamo dal funerale che si è celebrato oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe al Porto Il funerale di Corrado Cardelli, il cofondatore della lista civica Bene Comune Lo ha seguito per noi Lino Balestra Una chiesa gremita in ogni spazio non è riuscita a contenere tutta la folla di amici, fedeli, parenti venuti anche da fuori provincia colleghi di lavoro ed impegno sociale che hanno voluto esserci alla funzione religiosa oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe al Porto per celebrare le esequie di Corrado Cardelli Morto all'età di 60 anni dopo una lunga lotta di una decina d'anni contro il Parkinson che lo aveva debilitato ma non abbattuto nello spirito Dirigente in pensione dei servizi sociali nel comune di Pesaro giornalista sportivo appassionato dell'alma e politico di lungo corso prima nei giovani della democrazia cristiana e poi dal 2003 come fondatore della lista di ispirazione cattolica Bene Comune Le sue idee riuscivano sempre a stimolarci aiutarci a individuare nuovi percorsi non gli bastava mai, ci incoraggiava sempre ecco questo incoraggiamento spero che continui e che possiamo continuare sulla strada che anche lui spesso ci ha indicato Tu hai creduto alla parola del Signore Una funzione religiosa particolare come colui per la quale è stata celebrata inframezzata da ricordi personali di brani di Vangelo cantati accompagnati dal suono di una chitarra Inizia con le parole di uno dei neocatecumeni con cui Corrado stava condividendo il cammino di fede è proprio sul viaggio di Corrado che padre Salvatore dell'ordine degli agostiniani che presiede la funzione richiama l'attenzione dei fedeli la chiesa non celebra il funerale la chiesa celebra le esequie che significa accompagnare perché per la chiesa la morte non esiste Corrado, continua il religioso è vivo ed è tra noi attraverso il suo spirito ma lui è già in paradiso noi lo stiamo accompagnando noi, recita padre Salvatore siamo partecipi della sua gioia perché lui sta gioiendo con tutti noi meno certezze forse travolta dalla prematura assenza del padre la figlia Margherita che tante domande si pone sul significato di questa perdita ma che forte di ciò che il padre le ha lasciato annuncia la decisione di ciò che vorrà essere nella vita un medico ma un medico senza ma senza forse senza vedremo potremmo un medico presente che aiuti chi ha da aiutare dichiarazione di impegno che lascia nel silenzio rotto dalla commozione tutti i presenti per la fermezza e la volontà i ricordi gli anedoti dei vita vissuta e le presenze di amici di famiglia si sosseguono riempendo il cuore di tutti di rammarico per la perdita di una simile personalità per chi lo ha conosciuto e di rammarico come per chi parla di non averlo potuto incrociare nella sua vita non c'è pace per i titolari del polvere di caffè il locale che si trova a Santorso nel quartiere di Fano l'altra notte è stato di nuovo visitato dai ladri è stato distrutto per meglio dire dai ladri ed ora il rischio che chiuda definitivamente è dietro l'angolo quella del bar tabacchi polvere di caffè a Santorso di Fano sembra un aspirare di orrore senza fine furti a ripetizione con una cadenza che ha dell'incredibile siamo arrivati all'undicesimo con quello dell'altra notte messo a segno tra la 1 e le 5.30 del mattino una devastazione oltre che materiale anche morale una vita quella di Paolo Marcantonini e sue moglie sull'orlo della crisi oltre che di nervi anche aziendale ed infatti più che un colpo una mazzata come quella di ieri notte rischia di mettere la parola a fine all'attività commerciale perché il o i malviventi presumibilmente una batteria dalle 3 alle 4 persone stando secondo i modus operandi conosciuti ha letteralmente distrutto tutto quello che era possibile distruggere nel locale non so se questa volta riusciremo a rialzarci le uniche parole che Marcantonini riesce a pronunciare oggi per il resto parla ciò che è rimasto del locale ben poco oltre ai danni alle strutture come sempre sono le slot machine e le cambie soldi l'obiettivo prediletto dei banditi qui ne hanno asportate e sradicate ben quattro e portate in un campo vicino per essere poi saccheggiate di velta anche la cassa che ha fatto la stessa fine e l'impianto di videoregistrazione con le immagini della reazia sradicato di forza e portato via ma anche il magazzino delle sigarette è stato toccato diciamo così dove per arrivarci hanno sfondato addirittura il mulo del bagno e poi gratta e vinci e altro materiale difficile fare la conta dei danni ma volendo fare una stima approssimativa i titolari la valutano intorno ai 20.000 euro i carabinieri di San Costanzo hanno arrestato due fratelli per furto di energia elettrica da tempo i militari tenevano d'occhio queste due persone di nazionalità albanese poco più che maggiorenni che abbandonati dai genitori abitavano in una casa in pessime condizioni senza corrente elettrica sostenendosi soltanto con qualche lavoro saltuario e piccoli espedienti i militari nei giorni scorsi hanno visto uno di loro con una bicicletta nuova fiammante e si sono insospettiti mettendoli in relazione con alcuni furti in abitazioni avvenuti proprio in paese hanno pertanto deciso di effettuare un sopraluogo nell'abitazione dei ragazzi appena arrivati hanno osservato con sorpresa le luci accese e gli elettrodomestici in funzione durante la perquisizione l'attenzione dei militari è stata catturata da un lungo cavo che collegava l'impianto elettrico della casa fino ad un'altra abitazione all'esterno i due ragazzi si erano appropriati per così dire della corrente elettrica collegando il loro impianto domestico privo di utenza attiva con quello dell'ignaro vicino i due fratelli un 21enne e un 18enne entrambi già conosciuti le forze dell'ordine sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza oggi il giudice ha convalidato l'arresto e avendo avvocato chiesto i termini a difesa ha disposto l'obbligo di presentazione quotidiana in caserma e quattro lituani sono stati fermati uno aveva con sé un documento falso e per risalire all'identità di questa persona adesso indaga persino l'Interpol nei giorni scorsi i militari della stazione di Montecchio di Vallefoglia durante il servizio di controllo del territorio hanno fermato un'autovettura con targa francese con a bordo quattro soggetti di nazionalità lituana in Italia e senza fissa dimora i quali sono stati denunciati ai danni di un supermercato simplici e in possesso ingiustificato di armi con loro avevano un coltello e due pistole ad aria compressa priva del relativo tappo russo durante il controllo sono spuntati fuori anche una mazza da muratore un'accetta un piede di porco un cacciavite una tronchese una forbice un rotolo di nastro adesivo una tannica di 25 litri contenente diesel con tubo in gomma nei giorni seguenti i carabinieri li hanno tenuti sott'occhio controllando ogni loro spostamento per tentare di capire il loro reale motivo della presenza in Italia i carabinieri hanno interessato anche la polizia internazionale ed è stato grazie all'interpol che è emerso che uno dei quattro lituani aveva un documento di identità falso per questo qualche giorno più tardi è stato rintracciato agli esi e tratto in arresto per false dichiarazioni sulla propria identità sostituzione di persona e ricettazione nel frattempo si sta cercando di ricostruire l'esatta identità della persona arrestata si è spento a 103 anni padre colombano monaco camaldolese originario della Svizzera ma da tantissimi anni in Italia il funerale è stato celebrato questa mattina nell'eremo di Montegiove a Fano padre colombano è arrivato a Montegiove nel 1966 più di 50 anni fa e in questa casa ha sempre vissuto dall'ora la piccola cappella del convento dei monaci camaldolesi di Montegiove contiene tutti i fedeli che desiderano portare il loro ultimo saluto a padre colombano la funzione religiosa celebrata da padre Alessandro Bardan è asciutta e rigorosa come la vita del monaco 103enne di cui lo spessore come religioso e uomo di chiesa lo si percepisce nelle parole del saluto dei fedeli passaggi pieni di rammarico e dolore per la perdita la cui gioia per la vicinanza del frate al cospetto di Dio non riesce a mitigare il vuoto con cui i suoi fedeli devono convivere in questi momenti ma padre Bardan nell'Omelia sostenuto dalle parole della seconda lettura che narra la parabola del buon samaritano incalza i presenti sul senso di fuga da nostro Signore che alle volte travolti dalle domande senza risposte tentiamo di fare ma da Dio non si fugge esorta il religioso lui ci mette sempre alla prova e come lui ti dice che sei proprio tu che devi occuparti del più debole e del più bisognoso chiunque esso sia non quello che passa dopo di te o prima di te ma tu proprio tu il nostro prossimo non lo possiamo scegliere è Dio che ce lo manda e quindi la vita di padre colombano severa rigorosa devota alla regola comunque è stata una vita di conversione perché chi sceglie la vita monastica conclude padre Bardan sceglie una vita di chi vuole avvicinarsi a Dio attraverso gli altri vicino agli altri e con gli altri una vita non in verticale solo potesa al padre celeste ma per convertire tutti coloro che ci sono vicino ed ora padre colombano ha terminato la sua conversione con la vicinanza a Dio un ricordo ricordi ne ho tanti di padre colombano tantissimi quello che mi porto e mi porterò nel cuore è un piccolo aneddoto che vi voglio raccontare che risale a ieri mattina sono rientrato dal capitolo generale che stiamo celebrando a Camaldoli appena ho saputo della sua scomparsa entrando nella sua cella la prima cosa che ho visto è stato il nostro calendario liturgico l'ho raccolto e il risvolto di copertina era esattamente piegato sulla data del 7 ottobre la data del giorno questo ci dice che Don Colombano ha pregato fino all'ultimo giorno della sua vita forse fino a pochi istanti prima e questo è questa è la testimonianza più bella di lui è l'eredità che ci lascia una fedeltà assoluta alla preghiera Alessandro e Barban e non Bardani invece a Borgo Santa Maria è stato arrestato un giovane albanese durante una festa di paese la scorsa notte i carabinieri di Borgo Santa Maria hanno rintracciato e arrestato nel corso di una festa paesana un 29enne albanese in Italia e senza fissa dimora in esecuzione all'ordinanza di un'applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP dal Tribunale di Pesaro l'uomo è ritenuto responsabile di tre furti in abitazione e uno tentato commessi tutti a ginestretto di Pesaro durante i mesi estivi infatti sono stati rubati un televisore denaro in contante gasolio dal serbatorio di un trattore agricolo tutti ai danni di un 96enne in stato di minorata difesa durante i servizi di osservazione e controllo i militari avevano raccolto indizi inconfutabili di consapevolezza a carico del 29enne che ora è rinchiuso nella casa circondariale di Pesaro e sempre a Pesaro prosegue l'operazione zero semafori il sindaco Ricci ha approvato la nuova viabilità di via Milano la sperimentazione sta andando bene afferma verificheremo ancora per un mese eventuali effetti collaterali ma il sindaco è orientato alla conferma della rotonda credo che sarà una scelta strutturale così come la rotatoria all'incrocio tra via Solferino e via Ponchielli che renderemo stabile questa mattina è stato fatto un nuovo punto sulla situazione con i tecnici Ricci esce mettendo sul tavolo il progetto del rondò sperimentale tra via Mameli via Belvedere e via del Monaco partiremo dice ancora il sindaco i primi giorni di novembre eliminando il semaforo all'altezza del Troni il prossimo anno interveremo su largo tre martiri nel frattempo stiamo ragionando con il quartiere anche su Borgo Santa Maria dove c'è un semaforo con tempi di attesa molto lunghi proprio in mezzo al centro abitato a Marotta invece l'amministrazione comunale ha deciso di avviare un concorso di idee aperto a tutti i cittadini che potranno suggerire come utilizzare la cifra di 16.500 euro risparmiati negli ultimi due anni grazie alla riduzione dello stipendio del sindaco e degli assessori i soldi dovranno essere spesi per progetti di pubblica utilità chi volesse fare proposte alla giunta dovrà farlo via email entro il prossimo 31 ottobre e adesso c'è lo sport con Matteo Del Vecchio grazie Marco e benvenuti all'appuntamento con lo sport piccoli segnali di ripresa in serie C per l'Alma che dopo la sconfitta a Vicenza nel turno infrasettimanale ieri è riuscita a pareggiare conquistando un punto che fa sicuramente molto bene al morale ma che di fatto smuove un po' anche la classifica emozioni a non finire nella sfida di ieri al Mancini contro il Renate valida per l'ottava giornata di andata alla fine esce un 2-2 che lascia non pochi rimpianti al Fano ma che per come si erano messe le cose può essere visto come un punto dal quale ripartire per puntare alla salvezza tante emozioni dicevamo la prima già in avvio quando Ferrani per poco non beffa il proprio portiere sugli sviluppi di un calcio di punizione show di Fioretti tra il quarto e l'undicesimo ma l'attaccante fanese è prima impreciso poi neutralizzato dal portiere ospite di Gregorio al 33esimo il sostanziale equilibrio del match si spezza grazie a Gomez che direttamente su punizione trafigge Miori l'alma sospinta come sempre da tantissimi tifosi si tira subito su le maniche e al 43esimo si procura l'occasione che potrebbe cambiare il volto della gara Fioretti ben servito dal neoacquisto Lazzari viene travolto in aria da Di Gennaro calcio di rigore ed espulsione per il difensore Lombardo ma dagli 11 metri lo stesso Fioretti si fa ipnotizzare da Di Gregorio mandando le squadre a riposo sull'1-0 per gli ospiti nella ripresa Cuttone inserisce Cappelluppo per l'infortunato Soprani e Germinale al posto di Varano e proprio dal piede del bomber al sesto parte l'assist vincente per la rete dell'1-1 di Fioretti con 40 minuti da giocare e l'uomo in più l'alma si riversa in avanti ma al sedicesimo complice una disattenzione del neoentrato Cappelluppo su schema da punizione gli ospiti passano ancora con Pavan perdere in casa e per giunta in superiorità numerica sarebbe uno smacco troppo grosso i Granata lo sanno bene spingono sull'acceleratore ma trovano sulla loro strada uno strepitoso di Gregorio che al ventunesimo dice no all'incornata di Filippini al trentaseiesimo il Renate va vicino al Tris con la traversa di De Micheli ma proprio a fil di Sirena arriva il guizzo di Germinale che in mischia trova la porta ponendo fine ad una serie di sconfitte consecutive che per l'alma durava da cinque partite con il punto conquistato ieri il Fano agguanta nuovamente il Sant'Arcangelo sconfitto a San Benedetto e si porta più quattro sul Modena il cui destino pare ormai segnato domenica prossima scontro diretto in casa del Gubbio una squadra che arriverà al match dopo il turno di riposo cosa che si è già verificata anche contro Vicenza e Renate e che di sicuro non giova ai ragazzi di Cuttone che per la sfida al Barbetti dovrà nuovamente fare i conti con i tanti indisponibili specialmente in difesa e passiamo ora al calcio a cinque perché nel fine settimana sono iniziati i campionati nazionali dove sono protagoniste molte squadre fanesi subito derby in Serie B con il calendario che alla prima giornata così come è avvenuto lo scorso anno ha messo di fronte Alma Juventus ed Etabeta quest'ultima ripescata dopo la retrocessione sul campo avvenuta nella passata stagione al circolo Tennis Trave finisce 2-2 con i Granata subito avanti con il neoacquisto Pazzaglia arrivato in estate dal Todi assieme al tecnico Federico Mariotti e ai giocatori Capotosti e Bei dal canto suo invece l'Alma composta interamente da giocatori fanesi compreso il tecnico il rientrante Fabrizio Mascarucci non sta a guardare e pareggia con Niccolò Copparoni prima del secondo vantaggio Targato e Tabeta a segno poco prima dell'intervallo con Bei che trafigge Mazzanti a rimettere le cose a posto ci pensa ancora Copparoni che a 1-34 dalla fine fisse il risultato sul 2-2 in Serie A2 femminile parte male invece il Flaminia sconfitto in casa per 4-3 dal Trilacum Trento per le ragazze di Alessandri Imbriani che escono si sconfitte ma sicuramente non ridimensionate doppiette di Sara Berti e gol di Simona Borgogelli e perde anche il Fano Regbi nel campionato di C1 anche se per i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci è arrivato il primo punto della stagione sfuma per un soffio la vittoria per i ragazzi del tandem Walter Colaiacomo Franco Tonelli che a macerata perdono per 24-17 dominando però per lunghi tratti la gara e con un forcing nella ripresa che forse avrebbe meritato miglior sorte 24-17 il punteggio finale per i padroni di casa e Fano che torna con un punto in quanto sconfitto con meno di 7 lunghezze di scarto per i rosso-blu che domenica faranno visita al fanalino di coda Gran Sasso mete di Matteo Fulvio Golini Marco Sanguinetti e Federico Cazzanti corredate da una trasformazione di Alessandro Gasparini e lasciamo ora lo sport agonistico per passare alle attività amatoriali e nello specifico quelle organizzate da ASI e CSI due enti di promozione sportiva sempre molto attive sul territorio dopo il grande successo dei centri estivi sportivi Jump con la partecipazione di oltre 1000 ragazzi il comitato provinciale ASI in collaborazione con la società sportiva Sportfly ha ripreso l'attività invernale proponendo corsi di avviamento e perfezionamento per adulti e bambini a diversi sport tra cui il badminton le bocce il dodgeball e il pentathlon come ogni anno poi è ripartito anche il gioca sport l'attività rivolta ai ragazzi dai 4 anni in su che mira a far conoscere le basi di tutte le discipline sportive per maggiori informazioni il numero da chiamare è 328-266-2060 oppure è possibile visitare il sito www.asipesaro.it chiuderanno il 15 ottobre chiuderanno il 15 ottobre invece le iscrizioni per il corso da arbitro organizzato dal centro sportivo italiano di Pesaro Urbino che si svolgeranno a Pesaro in via Miralfiore e a Fano in via San Lazzaro all'interno del Palace Allende i corsi completamente gratuiti formeranno direttori di gara in grado di dirigere competizioni CSI di calcio a 5 calcio a 7 calcio a 8 e calcio a 11 e che saranno affiancati all'inizio da colleghi più esperti per consentire un graduale inserimento per saperne di più è possibile visitare il sito www.csifano.it o telefonare al numero 347-760-7926 e con le iniziative di ASI e CSI si chiude la pagina sportiva di questa sera io come faccio sempre vi ricordo l'indirizzo mail al quale inviare le vostre segnalazioni che è sport.fano.it per questa sera non ci sono altre notizie io mi fermo qui grazie per l'attenzione e ci vediamo come sempre puntuali lunedì prossimo bene grazie a Matteo del Vecchio e allora noi ci fermiamo qui con l'informazione vi ricordo che subito dopo di noi c'è Box con i personaggi di Fano poi una nuova ricetta con In Cucina con lo Chef e una bella puntata di Saul condotta da Monica Mondo con uno dei tre del trio Aldo Giovanni e Giacomo ovvero Giacomo Poretti l'informazione finisce qui grazie per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7.30 con la Rassegna Stampa Occhio e Giornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti